Sottopiatto, la rubrica enogastronomica di Emilia Sensale. Guido Saiello, il titolare dell'Osteria Atri che si trova qui in via Atri, proprio a pochi passi dall'incrocio di via Tribunale e di via Nilo e che dire, un imprenditore che ha voluto scommettere su questa osteria, che ha voluto scommettere su questo tipo di locale, un locale che lo ricordiamo è su due livelli, a piano terra, permette una cucina casereccia molto buona, tendente alla cucina partenopea. Allora Guido, io voglio semplicemente chiederti come è nata questa idea di voler scommettere qui nel centro storico, dove ci sono già tante, ma veramente tante, attività, tu però ho voluto regalare qualcosa di nuovo alla cittadinanza e voglio capire, come può un imprenditore ora che si parla tanto di crisi, dire sì, ci voglio scommettere. Partiamo dal fatto che io sono del quartiere, diciamo, qui sto a casa mia, qui a Taralato, e va bene, mi è piaciuto, mi piace la ristorazione, ho provato a investire così, assumendo questo locale che era un pub, ho fatto dei ritocchi, ho fatto diventare un'osteria. E dimmi un po', dal punto di vista tecnico, perché questa è comunque un'intervista radiofonica, come vogliamo descrivere l'osteria dalla parte del titolare, insomma, quali sono gli aggettivi che tu daresti, sia tecnici, sia proprio di cuore per questa osteria? La sto mettendo un po' in sintonia con il quartiere, diciamo che è il centro storico, e mi piace molto farlo diventare borbonico, la nostra cultura napoletana. Perché ricordiamolo, questo locale è pieno di stemma borbonici. Sì, e anche dal fatto che qua stanno molti ancora persone con i titoli, cavalieri, duca, infatti già li ho conosciuti, mi sono venuto a trovare, il movimento neoborbonico, tutte queste cose che prima che aprivo il ristorante nemmeno non sapevo. E ho visto che ho azzeccato, diciamo, lo stile. Diamo il caso che alla radio ci sta ora in diretta un imprenditore giovane, un ragazzo, una ragazza, qualcuno che vuole investire, come te, in un'intervità come questa. Qual è il tuo consiglio, da fratello, da padre, insomma, cosa ti senti di dire? Eh, guarda, non lo so, diciamo che il fatto che qui ci sta una concorrenza molto forte, già lo sapevo, però ti ritorno a dire, volendo, la concorrenza sta dappertutto. Qua, almeno qua ci sono periodi dove stanno molti turisti e credo che ce n'è per tutti. Poi è normale, quando ci sono i mesi tipo gennaio, febbraio, che più, che più poco, siamo un po' tutti svantaggiati e qui bisogna avere pazienza, far conoscere il locale, e così è tutto, tutto lo sapevo. Fabio Pace, chef dello Seriatri, innovatore possiamo dire, perché tu hai iniziato dal basso, ora sei in alto, lo possiamo dire, con una tua inventiva, con una tua fantasia, anche in cucina e ti rapporti anche con i clienti, perché ora via radio è un po' difficile di mostrarlo, però hai la cucina che proprio si affaccia alla sala di giù, dello Seriatri qui a Napoli, semplicemente voglio iniziare a chiederti come hai cominciato ad appassionarti alla cucina, a restare vicino ai fornelli. Mi hanno cominciato come hanno incominciato tutti quanti, come lavapiatti, poi vedi che ti piace il mestiere, vedi che ti piace stare in cucina, vedi che comunque è un mestiere che ti dà molte soddisfazioni, e niente, mi sono appassionato e ho iniziato a cucinare, iniziando a cucinare, poi pian piano, facendo l'aiutante cuoco, poi facevo il cuoco in seconda, poi ho iniziato a prendere qualche cucina alla mano e oggi mi trovo qua a lavorare all'Osteriatri. Tu hai una filosofia, per te non è vero che i cuochi, i chef, hanno un piatto che piace di più a loro da proporre ai fornelli, in realtà hanno tutta la cucina e poi cercano insomma un'inventiva, se questa è la tua filosofia ovviamente se me la confermo. Secondo me se uno piace di lavorare, piace il suo mestiere, in automatico ti devi piacere fare tutto, cioè anche se non sono piatti che hai fatto tu, deve essere una cosa che mi sei di piacere perché è sacrificata, la cucina è molto sacrificata. Parliamo di questi piatti innovativi che proponi tu? Noi abbiamo inventato una carbonara napoletana, con cipolla e salame napoletano, uova, melenzana a funghetto, formaggio, pepe, molto buona da provare, se volete venite all'Osteriatri e la proverete. Non ci resta allora che parlare della carbonara, uno dei più gustosi piatti di pasta della cucina laziale. Il tipo di pasta tradizionalmente usato per questa ricetta, per la ricetta anti-originale, perché appunto oggi ne esistono tante varianti, sono gli spaghetti, mentre restano ancora incerte le origini del piatto. Vi sono varie ipotesi e c'è chi pensa che abbia un'origine campana o comunque del basso Lazio. Diamo allora ai nostri radioascoltatori la ricetta della carbonara classica. Ecco gli ingredienti per quattro persone, ovviamente per i più golosi o per accontentare più palati, basta moltiplicare gli ingredienti. Servono per quattro persone, 400 grammi di spaghetti, 150 grammi di guanciale, 4 uova, 100 grammi di pecorino romano grattugiato, un cucchiaino di olio d'oliva extravergine, sale quanto basta e pepe nero da mettere insomma alla fine della preparazione. A questo punto andiamo appunto con la preparazione. Tagliate il guanciale a striscioline, fate poi dorare il guanciale con l'olio in una padella a fuoco moderato, cercando però di non farlo seccare, mi raccomando deve restare morbido. Cuescete gli spaghetti in abbondante acqua salata e nel frattempo sbattete le uova con il formaggio in una ciotola adatta a contenere poi la pasta una volta che sarà cotta. Scolate la pasta appena è pronta, fatela saltare un minuto nella padella con il guanciale, a questo punto versate nella ciotola tutto il composto, nella ciotola dove prima abbiamo sbattuto le uova col formaggio. Iniziate a questo punto a mescolare velocemente, così da fare in modo che le uova possano amalgamarsi pian piano con gli altri ingredienti, trasformandosi così in una morbida crema senza crumi. Gli spaghetti alla carbonara, mi raccomando, vanno serviti letteralmente subito, spolverando ogni piatto con del pepe nero macinato pestato al momento. La variante proposta dallo chef Fabio Pace è la carbonara napoletana, con il salame napoletano al posto del guanciale, ovviamente vi sono sempre le uova, ma ce l'ha aggiunta delle melanzane a funghetto. A me non resta che augurarvi buon appetito e invitarvi al nuovo appuntamento con la rubrica sottopiatto qui su Radio No Frontiere Napoli.